Verona Fiere ha deciso di rinviare le date di Vini Italy alla 14-17 giugno 2020 in considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale. Così Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere. La decisione è stata presa, spiega Mantovani, in considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale. La nuova data rappresenta il periodo migliore, sottolinea per assicurare espositori e visitatori il più elevato standard qualitativo del business. Vini Italy insieme a Opera Wine, prosegue il direttore di Verona Fiere, si svolgerà quindi in un contesto temporale in cui grandi eccellenze del made in Italy, quali Cosmo Prof e Salone del Mobile per esempio, avranno il compito di rilanciare con forza l'attenzione dei mercati internazionali e l'immagine dell'Italia. La decisione è stata frutto di un'attenta analisi dei dati disponibile, oltre che dall'ascolto delle posizioni degli stakeholder del mercato, incluse le principali associazioni di settore.